Ciao a tutti ragazzi, con questo video voglio fare una mega guida per quanto riguarda il tfr, come calcolare il suo valore e come calcolare quanto riusciremo a ottenere una volta che otterremo la nostra liquidazione. Per prima cosa ci tengo a fare una precisazione importante, quello di cui parlo in questo video riguarda la legislazione, le regole, le leggi oggi e magari in futuro queste regole cambieranno, perciò a quel punto questo video non sarà più valido. Teniamo la mente. Che cos'è il tfr? Il tfr non è altro che la sigla che sta per trattamento di fine rapporto, che è un pagamento che riceviamo dal nostro datore di lavoro una volta che abbiamo terminato il nostro rapporto di lavoro, ovvero se tra un anno, tra due anni decidessimo di smettere di lavorare per una certa azienda, allora a quel punto riceveremo il tfr, quello che solitamente è chiamato liquidazione. Per calcolare il valore esatto del tfr ci servono alcuni dati. Il primo di questi dati è lo stipendio complessivo ricevuto nell'ultimo anno e in più dobbiamo tenere in considerazione anche tutti i benefit aziendali, come ad esempio l'auto aziendale che utilizziamo e che comporta una sorta di reddito che riceviamo dall'azienda. Quello che non ci serve invece sono i rimborsi spese che non sono considerati tra il capitale che dobbiamo considerare nel calcolo del tfr. Una volta quindi che abbiamo calcolato il totale del reddito ricevuto, ovvero la somma di quanto ci è stato pagato e dei benefit, senza considerare i rimborsi spese, abbiamo già ottenuto tutti i dati che ci servono per calcolare il tfr. A questo punto quello che dobbiamo fare è dividere questo valore complessivo che abbiamo calcolato per 13,5 che è un valore di riferimento che sta a cavallo tra il 13 per chi ha solamente la tredicesima e il 14 per chi ha tredicesima e quattordicesima. A questo punto dobbiamo calcolare lo 0,5% del totale che abbiamo ricevuto l'anno precedente. Questo piccolo contributo andrà all'Inps e perciò ci viene sottratto, dobbiamo escluderlo. A questo punto dopo che abbiamo ottenuto il tfr lordo dividendo per 13,5 il totale complessivo ricevuto e dopo che abbiamo calcolato quanto dobbiamo pagare all'Inps possiamo ottenere il tfr netto per lo scorso anno sottraendo questi due valori. Adesso viene la parte difficile perché il tfr di anno in anno si rivaluta e aumenta sempre di più, aumenta di una percentuale che è funzione del tasso di inflazione rilevato dall'istat. Quello che succede il 31 dicembre di ogni anno è che il tfr si rivaluta, ma non sto parlando di tutto il tfr, sto parlando del tfr accumulato fino all'anno prima di quello precedente. Questo significa, e vi assicuro che è più difficile spiegare a parole questo concetto piuttosto che con un esempio numerico che però vedremo dopo, che a fine 2019 il tfr si rivaluterà solamente per la parte da fine 2018 indietro. L'ultimo anno non è considerato nella rivalutazione e resta così, perlomeno fino a fine 2020. La rivalutazione che consiste in una percentuale come detto consiste nell'1,5% più il 75% dell'indice di inflazione rilevato dall'istat. Questo significa che il tfr di anno in anno si rivaluta sempre di più sfruttando l'interesse composto e i suoi enormi vantaggi. Infine l'ultima spesa che dobbiamo considerare è l'imposta sulla rivalutazione, perciò questo significa che noi riceviamo un certo tasso di interesse, riceviamo degli interessi che andranno a sommarsi col tfr, ma che sono tassati. Attualmente quest'imposto è pari al 17% della rivalutazione del tfr, che non è poco, ma non è neanche così tanto, paragonata ad esempio allo scaglione minimo IRPEF del 23%. A questo punto siamo in grado di calcolare il tfr totale che abbiamo accumulato a partire dall'anno zero. Anno dopo anno dobbiamo fare questo calcolo sommando gli interessi che sono sempre di più, perché aumenta sempre di più il tfr accumulato, fino ad arrivare all'ultimo anno, che non viene rivalutato. Per quanto riguarda il tfr possiamo scegliere di utilizzarlo in due modi. Una volta che veniamo assunti dobbiamo compilare un modulo nel quale specifichiamo in che modo vogliamo utilizzare il tfr. Se lasciarlo in azienda e accumulare quindi il fondo in azienda, oppure possiamo utilizzarlo come fondo pensionistico. La più grande differenza tra questi due modi di usare il tfr è stata nella tassazione del tfr. Infatti lasciare il tfr in azienda è molto meno conveniente dal punto di vista delle tasse che utilizzare il tfr per un fondo pensionistico. Se lasciamo il nostro tfr in azienda, alla liquidazione, cioè al pagamento del tfr, dovremo pagare una percentuale molto più alta, pari all'aliquota media degli ultimi 5 anni pagata sul tfr, mentre se utilizziamo il tfr con fini pensionistici la tassazione applicata è al massimo al 15% e poi in base al numero di anni in cui accumuliamo il tfr si può ridurre fino a un'aliquota del 9%, quindi un buon risparmio. Questo enorme risparmio è compensato dal fatto che il tfr utilizzato per fini pensionistici possiamo sfruttarlo solamente quando andremo in pensione, mentre il tfr aziendale lo possiamo utilizzare alla liquidazione, praticamente quasi subito, a parte clamorosi casi in cui le aziende ritardano di anche anni per pagare il tfr, ma questa è un'altra storia. Un'altra differenza sta nella rendita del tfr, come visto prima il tfr aziendale rende l'1,5 più il 75% dell'indice di inflazione rilevato dall'istat per quell'anno, mentre un tfr utilizzato per un fondo pensionistico ha un rendimento variabile a seconda della gestione del fondo. Quindi o può andare molto bene o può andare molto male. In ogni caso questi sono i principali svantaggi e vantaggi di scegliere un tfr da lasciare in azienda oppure utilizzato per scopi pensionistici. Voi quale preferite? Fatemi sapere con un commento sotto a questo video. Adesso vediamo un esempio numerico di tfr lasciato in azienda e di come viene pagata la liquidazione. Nel nostro esempio ipotizziamo che una persona sia stata assunta il primo gennaio del 2018. Alla fine di quell'anno si può calcolare il tfr per tutto il 2018, il 31 dicembre. Ipotizziamo poi che il reddito totale generato da questa persona, tra quanto gli è stato pagato di stipendio e benefit aziendali, sia pari a 25.000 euro per tutto il 2018. Questo significa che per calcolare il tfr lordo dobbiamo dividere 25.000 per 13,5 e questo ci lascia con 1851,85 euro di tfr lordo. Poi dobbiamo calcolare il contributo IMSS di questa quota che dobbiamo sottrarre al tfr lordo, che è pari allo 0,5% di 25.000. Facendo i conti otteniamo che il contributo IMSS è pari a 125 euro e questo che deve essere sottratto al tfr lordo ci lascia con un tfr netto di 1726,85 euro. Fino a qui tutto bene, nel senso che per questo primo anno non si ha una rivalutazione, in quanto il tfr accumulato nell'ultimo anno non deve essere rivalutato. La rivalutazione del tfr del 2018 si avrà a partire da 31 dicembre 2019 e adesso vediamo come calcolarla. Ipotizziamo che anche per il 2019 il reddito complessivo su cui possiamo calcolare il tfr è di 25.000 euro. Il tfr netto accumulato per il 2019 è ancora pari a 1.726,85 euro, centesimi. Ma questa volta dobbiamo calcolare tutto il tfr accumulato prima dell'inizio di quest'anno, quindi fino a fine 2018, che era pari a 1.726,85 euro. Questo è il cosiddetto tfr accantonato e deve essere rivalutato. Rivalutato seguendo l'1,25% più il 75% dell'indice istat e utilizzando il tasso di inflazione dell'istat otteniamo una rivalutazione delle tfr fino a quel momento dell'1,79%, cioè 30,98 euro. Su questi 30,98 euro dobbiamo applicare un'imposta del 17%, cioè dobbiamo sottrarre 5,27 euro. Quindi il tfr totale accumulato al 31-12 del 2019, quindi dopo due anni di lavoro, è pari a 1.726,85 euro, che è il tfr accumulato per il 2019, più 1.726,85 euro che è il tfr accumulato fino all'anno precedente. E a questi dobbiamo aggiungere la rivalutazione, perciò 30,98 meno 5,27. Il tfr complessivo maturato per fine 2019 pari a 3.479,41 euro. Ipotizziamo poi che questo poveraccio il 31-12-2019 venga licenziato. A questo punto la società deve liquidare al lavoratore il tfr. E adesso vediamo come calcolare questa liquidazione. Per prima cosa quello che dobbiamo fare è prendere il valore di tfr complessivo che abbiamo calcolato prima, quindi 3.472 euro, moltiplicarlo per 12 e poi dividerlo per il numero di anni in cui abbiamo lavorato, in questo caso due anni, da inizio 2018 a fine 2019. Questo ci dà un valore di 20.876 euro e su questo valore dobbiamo calcolare la tassazione IRPEF con le aliquote normali, quindi al 23% fino a 15.000 euro e poi al 27% fino a 28.000 euro. La tassazione complessiva per i 20.876,46 euro è pari a 5.036,64 A questo punto possiamo applicare la liquota di riferimento che dobbiamo utilizzare per calcolare quanto viene tassato il tfr, dividendo 5.036 per 20.876 e otteniamo una liquota di riferimento del 24,13%. Questa liquota deve essere applicata al tfr complessivo che abbiamo accumulato, cioè 3.479 euro e 41 centesimi. Perciò il tfr netto che ci verrà liquidato sarà pari a 2.639 euro e 83 centesimi. Ora, se finisse tutto qui sarebbe relativamente facile, nel senso che tutto è abbastanza lineare, ma a questo punto arriva il calcolo più difficile di tutti. Infatti, quello che abbiamo calcolato adesso è quanto la nostra ex azienda ci pagherà, ma per il calcolo preciso l'agenzia delle entrate provvederà a calcolare la liquota media degli ultimi 5 anni per poi applicarla al tfr da liquidare e sotto forma di addebito o accredito ci verrà corrisposta la cifra esatta. In questo caso il povero lavoratore ha lavorato solamente per 2 anni, perciò la liquota media farà riferimento agli ultimi 2 anni. Questo è più o meno come viene calcolato il tfr, ripeto, secondo la legislazione attuale. In futuro le cose potrebbero cambiare. Per il resto questo video è concluso, se avete delle domande o dei suggerimenti lasciatemi pure un commento sotto a questo video. Se vi è piaciuto il video e gli argomenti che ho trattato lasciate pure un bel like e se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.